E' un po' di Andiamo a presentare la prima serie Eros Comin in 1 Enrico Agugiare in 2 Mattia Dalfarra in 3 Davide Guidolin in 4 Davide Gobbo in 5 Riccardo Bertuola in 6 Thomas Venturini in 7 Alberto Bisterzo in 8 25 e 56 Alessandro Papa vince la batteria